Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un aiuto alla donna a favorire l'avorto, un atto di dignità a procurare l'eutanasia, una conquista scientifica a produrre un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono, o usare vite umane come cavie di lavoratorio per salvarne presumibilmente altre. La compassione evangelica invece è quella che accompagna nel momento del bisogno, cioè quella del buon samaritano che vede, ha compassione, si avvicina e offre aiuto concreto. Così Papa Francesco si è rivolto agli oltre 5.000 medici dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, incontrati in aula Paolo VI in occasione del settantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione. Oggi la scienza e la tecnica hanno aumentato le possibilità di guarigione fisica, ha spiegato il Papa. Ma per alcuni aspetti sembra invece diminuire la capacità di prendersi cura della persona, soprattutto quando è sofferente, fragile e indifesa. Quindi le conquiste della scienza e della medicina per contribuire al miglioramento della vita umana non devono allontanarsi dalla loro radice etica. E per questo, ha proseguito il Papa, voi medici cattolici vi impegnate a vivere la vostra professione come una missione umana e spirituale, come un vero e proprio apostolato laicale. Il Pontefice ha infine incoraggiato i medici a farsi carico delle tante forme di sofferenza come buoni samaritani, avendo cura in modo particolare di anziani, infermi e disabili. La fedeltà al Vangelo della vita e il rispetto di essa come dono di Dio, ha concluso il Papa, a volte richiede scelte coraggiose e controcorrente, che possono arrivare anche all'obiezione di coscienza. Perché alla luce della fede e della retta ragione, la vita umana è sempre sacra e sempre di qualità. E non esiste una vita umana più sacra di un'altra solo in virtù di mezzi, diritti, opportunità economiche e sociali maggiori.